Sulla questione della votazione dei giudici della Corte, la Lega ha avuto una posizione chiara sin dall'inizio, cioè quella dell'astensione. L'astensione è dovuta al fatto che Renzi continua ad andare in giro a dire agli italiani che ha i numeri per governare, per fare accordi con parte dell'opposizione, per riuscire a portare a casa tutto quello che lui sogna di avere. E quindi perché la Lega deve dare una mano o essere la stampella di questo Presidente del Consiglio? Ce lo siamo chiesti in più di un'occasione e abbiamo detto che la Lega ha un'idea totalmente diversa di società e di gestione della cosa pubblica rispetto a questo Presidente del Consiglio. Quindi le affermazioni ridicole, pretestuose, fatte dai 5 Stelle che sui social network o sugli organi di informazione continuano a puntare il dito verso la Lega dicendo che noi facciamo inciuci con Renzi, sono affermazioni che lasciano il tempo che trovano, sono affermazioni che servono al Movimento 5 Stelle per avere visibilità. Il problema è che la visibilità non sia screditando gli altri, la visibilità sia facendo cose concrete, atti parlamentari, facendo l'opposizione vera come stiamo facendo noi a questo governo. Quindi chiediamo ai senatori e agli onorevoli dei 5 Stelle di guardare in casa loro, di guardare gli inciuci che hanno fatto fino adesso, e ricordo gli inciuci sulla RAI, ricordo gli inciuci per l'elezione del Presidente Grasso, ricordo tutte le volte che loro hanno prestato il fianco magari tradendo quello che era il mandato elettorale e quindi ognuno si guarda in casa propria.